Vincenzo Mingione del Rocca Sicura, poco tempo per riorganizzarvi visto che si era giocato mercoledì ma un buon approccio vi ha permesso comunque di indirizzare la partita sul binario giusto e di renderla se mi permette soprattutto nel secondo tempo una sorta di allenamento? Sì, sapevamo comunque che oggi non era facile, l'abbiamo però preparata bene in questi due giorni, infatti si è visto che subito dalle prime battute della partita siamo partiti a 3.000, l'abbiamo fatto subito a nostra. Due rinforzi, quelli che ci volevano soprattutto là davanti perché i risultati forse nell'ultimo periodo non sono arrivati proprio per quel gol di scarto, quella zampata in più che vi poteva servire? Sì, diciamo che abbiamo un po' sofferto questa parte di stagione lì davanti, non per dei merito degli attaccanti, un po' per dei merito tutta la squadra, però abbiamo acquistato due ottimi giocatori che non li conosciamo oggi e Calcagni ha vinto campionato in Molise, ha fatto sempre i gol, sperando che anche quest'anno farà la sua parte. Ancora, l'analoga situazione che accade ogni anno, tu stesso mi puoi insegnare, il girone di ritorno comincia un altro campionato, anche se la forbice comunque rispetto alle prime è abbastanza massiccia. Quello sicuramente, a gennaio inizia un altro campionato, noi però ora non dobbiamo guardare la classifica, dobbiamo fare più punti possibili e poi arrivare là sopra, alla fine poi tireremo le somme. Ecco, Calcagni e Lombardi si litigheranno il posto secondo te? No, penso che anche loro due giocando insieme vanno bene alla fine, poi abbiamo anche altri giocatori, soprattutto gli under che sono forti lì davanti, quindi sarà una bella sfida questo girone di ritorno.